Buonasera a tutti e bentornati in questo appuntamento con l'informazione locale di RTA Vidotaro in collaborazione con TG Parmense, in questa giornata di giovedì 8 agosto 2024. A causa dell'ondata di maltempo verso la serata di ieri nel Parmense, si sono registrati diversi danni in alcuni comuni. Ad esempio, un albero è caduto su Viala Spezia tra Collecchio e Parma, rendendo temporaneamente inagibile il percorso. E il forte vento ha provocato la caduta persino di alcuni pali della luce, oltre che di altri alberi e rami. E il Consiglio dei Ministri ha riconosciuto lo stato di emergenza nazionale per le province di Bologna, Forlicesena, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, colpite da maltempo lo scorso giugno. La Regione Emilia-Romagna, guidata dalla Presidente Facente Funzioni Irene Priolo, è già al lavoro sulla proposta del piano degli interventi da presentare al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, per renderlo operativo il prima possibile. Il Governo ha stanziato 21 milioni e 530 mila euro dal Fondo delle Emergenze Nazionali per i primi interventi. La richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza era stata firmata e inviata il 6 luglio scorso dall'ex-presidente della Regione Stefano Bonaccini, a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche e dei conseguenti danni che avevano colpito gran parte del territorio regionale, tra il 20 e il 29 giugno, con un picco particolarmente grave tra il 23 e il 25 giugno. Il riconoscimento dello stato di emergenza avrà una durata di 12 mesi e prevede interventi mirati per affrontare le criticità lasciate aperte dal maltempo. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in collaborazione con i territori colpiti, sta identificando le principali criticità da risolvere il prima possibile. La presidente Priolo ha sottolineato l'importanza della sinergia con i territori per individuare le principali criticità e fornire rispuste rapide ed efficaci agli effetti del maltempo. E un camion ha preso fuoco nel pomeriggio di ieri lungo l'autostrada A1, nel tratto vicino alla coincidenza con l'A15. Ce ne parla Emanuele Berni. Camion in fiamme in autostrada. È successo ieri, poco prima delle ore 15, quando mentre stava percorrendo l'A1 in direzione Milano, nei pressi del bivio per l'autostrada A15 Parma-La Spezia, un camion ha preso fuoco e poco prima sarebbe scoppiato un pneumatico del mezzo stesso. Rimane comunque da ricostruire la dinamica dell'accaduto e cosa avrebbe portato all'innesco dell'incendio. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco di Parma e la polizia stradale per gestire i problemi di viabilità a seguito dell'incidente. Infatti si sono formati ben sei chilometri di coda, dal chilometro 115 tra Terre di Canossa-Campegine ed il bivio con l'A15 Parma-La Spezia verso Milano. Fortunatamente non si è registrato nessun ferito, anche se le immagini dell'incidente avevano una connotazione davvero spettrale e non lasciavano, certo, presagire il meglio. I carabinieri del comando stazione di Borgo Valditaro, coadiuvati da personale dei carabinieri Nucleo Ispettorato del Lavoro e del NAS di Parma, hanno effettuato accertamenti finalizzati a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso, oltre che a sondare il rispetto della normativa sulla tutela della salute, della sicurezza nei luoghi di lavoro e della corretta conservazione e somministrazione degli alimenti. I controlli hanno interessato gli esercizi pubblici che effettuano attività di ristorazione e i canteri edili presenti nei territori della Valtaro. In uno dei ristoranti controllati sono state riscontrate da parte dei carabinieri del NAS di Parma carenze igienico-sanitarie per le quali i militari hanno contestato al responsabile dell'attività una sanzione amministrativa di 1.000 euro. Il personale del NIL ha proceduto al controllo di alcuni cantieri edili in diversi comuni della Valtaro. In uno dei cantieri controllati, nel quale era in atto la ristrutturazione di un edificio, i militari hanno riscontrato alcune irregolarità a carico della ditta esecutrice dei lavori. In particolare, il ponteggio utilizzato non risultava ancorato correttamente, tanto da creare un potenziale pericolo per gli operai. A carico del titolare della ditta è stata elevata una sanzione di 900 euro, con l'intimazione di sanare l'irregolarità entro 5 giorni. E i carabinieri della Compagnia di Parma, nell'ambito di una lunga serie di servizi pianificati e coordinati dal Comando Provinciale, hanno presidiato l'interno del Parco Ducale e le zone limitrofe, al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Una delle pattuglie messe in campo dalla stazione carabinieri di Parma o tre torrente, su segnalazione di uno degli agenti in borghese, si è avvicinata ad un gruppetto di ragazzi che stazionavano su una panchina nei pressi del palazzetto San Vitale. Uno dei ragazzi, un trentenne originario del Gambia, ha notato l'auto di servizio che si stava avvicinando, estraendo dalla tasca dei pantaloni un oggetto di forma rettangolare che ha lanciato in direzione di una siepe a pochi metri di distanza. I militari sopraggiunti, dopo aver fatto intervenire altro personale in uniforme, hanno recuperato quanto lanciato poco prima, un pezzo di hashish di forma rettangolare del peso di 25 grammi. A questo punto il trentenne è stato accompagnato in strada a fonderie per l'espletamento delle incombenze burocratiche. La sostanza rinvenuta, esaminata con il narcotest in dotazione, è stata posta sotto sequestro. Approfondite accertamenti hanno fatto emergere a carico del trentenne alcune segnalazioni di polizia per reati inerenti agli stupefacenti e un avviso orale emesso dal questore di Mantova nel 2023. Un'altra pattuglia di Parma oltretorrente, nei pressi dell'uscita che porta in via Kennedy, ha proceduto al controllo di un trentaquattrenne ganese, residente in provincia, che alla vista dei militari ha immediatamente assunto un atteggiamento ansioso, tanto da indurre i carabinieri ad approfondire il controllo. Messo alle strette, l'uomo ha consegnato spontaneamente un pezzo di sostanza stupefacente del peso di 20 grammi. Analizzato con il kit in dotazione, è risultato essere hashish e sottoposto a sequestro. Anche un diciottenne è stato fermato nelle immediate vicinanze del parco ducale, trovato in possesso di altri 30 grammi di hashish. Al termine delle formalità, tutti e tre sono stati segnalati alle autorità competenti. E continuiamo a parlare del cinquantesimo anniversario della fondazione di Famiglia Tarsognina, insieme al presidente Marco Brugnoli. La famiglia Tarsognina festeggia il cinquantesimo anno di fondazione. Certo, sì, esattamente. Nel 1974, 50 anni fa, il 26 dicembre, si sono trovati quattro dei fondatori che hanno avuto l'idea in un bar, a Parma, come sempre, a tavola si hanno le migliori idee, hanno deciso, hanno pensato perché non fondare un'associazione ed è nata lì la famiglia tarsognina. I fondatori all'epoca erano tanti, parliamo di una quindicina di fondatori e tantissimi sostenitori, soci. La famiglia tarsognina è nata ben appunto 50 anni fa con l'idea di valorizzare il territorio e valorizzare i bestraiai. I bestraiai che sono ben appunto tutti gli emigrati tarsognini nel mondo, che tornavano a Tarsogno dopo lunghe presenze all'estero, tornavano nel Tarsogno e l'idea della famiglia tarsognina era valorizzare questi tarsognini, valorizzare ben appunto il territorio, fare eventi culturali. Questa è l'idea della famiglia tarsognina che stiamo portando avanti. Io sono il presidente della famiglia da quest'anno, il decimo presidente. È un onore per me perché i nostri anziani, ma tuttora ancora parecchi di loro ancora presenti, tengono molta questa e avere il ricambio generazionale è una cosa fondamentale. Quindi 10 agosto a Tarsogno, al cinema di Tarsogno, vi aspettiamo alle 9 di sera in cui faremo la serata per celebrare il cinquantesimo. Avremo la corale lirica di Borgotaro, proietteremo un video per ripercorrere insieme questi 50 anni di storia. Ci saranno altre sorprese in quella serata, ma non le voglio svelare, vi aspetto tutti a Tarsogno alle 9 il 10 agosto. Il consorzio forestale La Rocchetta promuove una serata informativa di biosicurezza per il contenimento della peste suina africana. L'evento, organizzato in collaborazione con ATC PR9, il comune di Albareto e la comunalia di Albareto, si terrà sabato 17 agosto alle ore 20.30, presso il Palafungo di Albareto. Durante la serata interverranno il dottor Carmelo Musarò, tecnico faunistico dell'ATC PR9, e il dottor Luigi Noghera, responsabile Ausle. La presentazione sarà curata dal signor Renzo Bruschi. L'incontro affronterà la situazione attuale della diffusione della PSA nella zona, le misure preventive in atto e le regole da seguire per le attività outdoor. Al termine della serata verrà rilasciato un attestato di partecipazione. E porcigatoni in festa, la 33esima edizione della Sagra della Polente e del Cinghiale si terrà nel weekend di sabato 10 e domenica 11 agosto, nel secolare Castagneto. Sabato dalle ore 19.30, cena con Cucina Casereccia alle ore 21, in compagnia dell'orchestra Diego Zamboni, poi la disco con DJ Savanta e DJ Lasagna. Domenica 11 agosto, alle ore 11.15, la Santa Messa. Alle ore 13 poi il pranzo, mentre nel pomeriggio degustazione con birra turris. Dalle 19.30 ci sarà la cena e la serata proseguirà in compagnia dell'orchestra Paolo Bertoli con l'estrazione premi. È gradita la prenotazione ai numeri 338-67-77-551 oppure 338-58-36-968. E anche a Tersogno si è festeggiata la ricorrenza della Madonna del Carmine. Vediamo com'è andata. Partecipata e sentita come sempre la ricorrenza della Madonna del Carmine a Trasogno nel comune di Tornolo. Tra giovani, anziani e anche più piccini, la tradizionale manifestazione che si è svolta il giorno domenica 28 luglio ha visto la presenza di tanti abitanti della Valtaro ma anche tanti turisti che come ogni anno in questo periodo accorrono nei comuni valtaresi per fuggire alle torride temperature della città. Tutte le attività dell'evento hanno visto una calorosa presenza da parte di numerose persone a partire dalle funzioni religiose. Domenica alle ore 11 e 15 si è svolta la Santa Messa presso il Santuario della Madonna del Carmine di Trasogno, celebrata da Monsignor Cevolotto, vescovo della diocesi di Piacenza Bobbio. Era presente invece Don Lino Ferrari alla sera per la processione delle 20 e 45 accompagnata dal corpo bandistico di Trasogno, mentre il lunedì 29 la Messa e la edizione dei bambini ha concluso le celebrazioni religiose. Nel pomeriggio di domenica spazio a spettacoli di varia natura nel piazzale del Santuario della Madonna del Carmine. Un giocogliere ha intrattenuto i bambini in un crescendo di giochi conclusi nel tardo pomeriggio con uno spettacolo di fuoco. A contorno di tutta la manifestazione uno stand gastronomico e l'immancabile banco di beneficenza con lotteria, un appuntamento che va avanti da oltre 70 anni, il cui ricavato viene devoluto alla chiesa. E termina qui il presente telegiornale, ma non cambiate canale perché dopo gli spot andrà in onda il nostro secondo TG, dedicato a eventi, cultura, sport e curiosità. Detto questo ci ritroveremo di nuovo con voi dopo la pubblicità. È arrivato a Borgotaro il nuovo punto vendita di prima e poi. In via nazionale 13 vi aspetta con un'ampia scelta di biancheria intima, biancheria per la casa e molto altro ancora a prezzi imbattibili. Trent'anni di esperienza al servizio dei clienti per soddisfare ogni tipo di esigenza. Prima e poi lo trovi a Borgotaro in via nazionale 13 e a Bedonia in piazza plebiscito 4. Ritorna in via Libottego a Borgotaro il mercatino dell'antiquariato e modernariato, cose di altri tempi e con il patrocinio del comune di Borgotaro. Ogni quarta domenica del mese per informazioni ufficio turistico 0525 96 796 oppure Daniela 331 40 36 577 oppure Maria Rosa 339 200 3835. Hai un'azienda o abiti in un comune della Val di Taro? Gaseis Energia ha un'offerta impensabile per te. Passa a Gaseis Energia le tue utenze luce gas e avrai uno sconto del 40%. Contatta subito Gaseis Energia, il tuo fornitore di fiducia in Borgo Val di Taro. Supermercato Carrefour, bella tradizione di Bedonia, vi aspetta ogni giorno, domeniche comprese, con la cortesia e l'altissima qualità che ci contraddistinguono dal lontano 1982. È inoltre in arrivo una grandissima novità, prossima apertura di un nuovo supermercato a Isola di Compiano, per essere ancora più presenti nella nostra bellissima valle. L'amministrazione comunale di Bedonia organizza una raccolta porta a porta di elettrodomestici da rottamare, come frigoriferi, congelatori, lavatrici, televisori, computer, aspirapolveri e telefonini. La raccolta parte dal 10 aprile nel capoluogo e il 4 aprile nelle frazioni. I giorni di raccolta in tutto il territorio comunale sono pubblicati in appositi calendari e le informazioni possono essere richieste all'ufficio tecnico. Gli oggetti devono essere depositati la sera prima del giorno di raccolta. Le nuove cucine lube trovate esposte da arredamenti bertani. Approfittate della detrazione fiscale del 50% per gli acquisti dei vostri arredi ed elettrodomestici. È evidente quando hai bisogno di un apparecchio acustico. Vieni a provare i nuovi apparecchi nel nuovo centro Acoustic System a Borgo Taro in via Corridoni 38. Morano leggi a Fornavo Taro, piattaforme aeree, gru e tanto altro. Telefono 0525 2234. Gruppo Opimitti, oltre 60 anni di attività al servizio di privati e denti pubblici. Un gruppo che ha sviluppato le proprie attività seguendo le trasformazioni che avvenivano nel paese. Gruppo Opimitti, per la valorizzazione delle risorse umane e la crescita territoriale. Opimitti, un gruppo che opera nell'ambiente, per l'ambiente. Ne combiniamo di tutti i colori, ma solo con il tintometro. Da tutto Casa Varsi, Casalinghi e Ferramenta, continua anche la promozione sulle stufa pelle e legna. Eletrotaro Fornovo, frigoriferi design anni 50. Vasta gamma di elettrodomestici, televisori e prodotti tecnologici di ultima generazione. A Fornovo di Taro, in via nazionale 127. Vieni alla baita di Borgotaro per le tue serate speciali. Cene di classe e intrattenimento. Si balla tutti i sabati sera con le migliori orchestre. La baita disco club a Borgotaro. Musica viva, gridiamo e viva, ed i problemi no, non ci sono più. La puoi cantare, canti e ballare. La musica viva con noi. Puoi ospitare una puntata dell'aperitivo del Parmense? Oppure vuoi parlare della tua attività e sponsorizzarci? Allora scrivici a comunicazione-opinitnetworking.com o chiamaci al 323-8424-031. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione locale, con il TG dedicato ad arte, sport, culture e curiosità. Prima di proseguire con queste notizie, andiamo a vedere la programmazione di RTA VideoTaro per questa sera e domani. Questa sera alle 20.45, protagonisti dal mondo. Alle 21.30 c'è DriverTV. Alle 22.30 la replica del telegiornale. Alle 23, balla che ti passa. E a mezzanotte, rivediamoli, 1999. Per quanto riguarda domani invece, alle 20.45 ci sarà salute e società. Alle 20.50 la musica vi aspetta con musica viva. Alle 22.15 è ora di VideoStation. Successivamente, a mezzanotte, la replica del TG. A mezzanotte 30, balla che ti passa. E a lune 30 si chiude con, rivediamoli, 1999. Ricordo poi che, al termine di ogni telegiornale, andrà in onda Italpress TG News, con cui si farà una panoramica più generale delle notizie più importanti del giorno, a livello non solo locale, ma anche nazionale e internazionale. Non perdete quindi che sto nuovo spazio è dedicato all'informazione su RTA Videotaro, canale 89. E proseguiamo ora con il resto delle notizie. Il comico, cabarettista e conduttore Leonardo Manera, conosciuto per le sue partecipazioni a programmi come Zellig, Colorado, Paperissima e Quelli che è il Calcio, sarà ospite a Compiano per uno spettacolo il prossimo venerdì 14 agosto. L'appuntamento è in Piazza Vittoria Emanuele e l'ingresso è libero. E a Bedonia si sta tenendo una mostra di mescolanze artistiche nella palazzina di Piazza 4 Novembre, dal titolo Shock, Pop and History. Scopriamone di più. Abbiamo creato una mostra veramente eccezionale con dei nomi come Andy Warhol, Kate Herring, Robert Capa, Cartier-Bresson eccetera eccetera, mettendo insieme anche alcuni dei nostri artisti della nostra squadra che sono un po' pop, un po' shock. Infatti la mostra si intitola Shock, Pop and History ed è allestita a questo piano. Secondo piano è la palazzina in Piazza 4 Novembre, al secondo piano c'è anche la residenza dell'artista della Ludmilla Kazinchina, un'artista russa che abita a Parma da tanti anni, che era già l'anno scorso in recenza da noi e al piano di sotto c'è la mostra Out of Time di Matthias Langer, che è anche un'artista che è in residenza dell'anno scorso, bravissimo, un bravissimo fotografo. Vi invitiamo a venire anche perché c'è sull'opera Moonwalk del 1987 di Andy Warhol, dei bravi, bravissimi ragazzi si sono inventati questa lettura sartoriale, quindi è una sorta di pezzo teatrale che si viene ascoltato con una cuffia per far sì che le persone si interessino di più di un'opera in particolare e stiano concentrati su un'opera. Ringrazio il Comune di Bedonia, particolarmente gli assessori al bilancio che è Roberto Agazzi e l'assessore alla cultura che è la Letizia Benaglia che ci hanno sostenuto. Ringrazio anche l'Officina Buoni Mestieri della Libia che ci hanno anche sostenuto con tantissimi lavori qua dentro. Ringrazio Don Amedeo e Don Daniele che sono stati gentili e ci hanno dato la seconda residenza d'artista per Mattias Langer. Ringrazio la trattoria solare di Ceresetto, anche ci ha offerto gentilmente una residenza d'artista per un altro artista e anche diverse cene. E ringrazio la Raffaella Del Poio che ha messo a posto il cortile e il centro commerciale naturale con Marco Mariani che è meraviglioso. Qui abbiamo due opere che rappresentano la parte History nel nome della mostra Shock Pop and History perché abbiamo una fotografia di Henri Cartier-Bresson dal 1947 che fa vedere una signora anziana con la banniera americana il 4 luglio, è stato l'Independence Day fotografato da Bresson. Poi qui a sinistra abbiamo una foto di Robert Kappa, famosissimo fotografo giornalista di guerra che è stato presente alla Normandia, al D-Day, quando gli americani sono entrati nella seconda guerra mondiale e questa è una foto del 1944. Qui abbiamo una serigrafia dell'artista americana Shepard Ferry, anche conosciuta come Obey e lui ha presentato qui una serigrafia che si chiama Operation Oil Freedom che parla certamente della politica americana per il petrolio e lui ha in questo momento una mostra molto importante con oltre 300 opere alla fabbrica del vapore a Milano. Allora qui abbiamo un'opera d'arte di un artista non ancora storico, è giovane, è vivente ma molto affermato, si tratta di Tristan Wraith, artista britannico. Qui ci troviamo una stanza dell'apparazione dell'arte nella quale l'artista russa Ludmila Kazinkina ha ricostruito il suo atelier di casa e lavora qui in questi giorni davanti al pubblico. Chi vuole può venire qua, conoscerlo, fare domande per la sua opera. Qui adesso siamo nel primo piano dell'apparazione dell'arte, è una mostra personale Out of Time dell'artista tedesco Matthias Langa, che è qua al mio fianco e qui ci troviamo davanti a un'opera d'arte che Matthias ha fatto già l'anno scorso, era già qui presente al festival. È un picnic che abbiamo fatto a Prato, sopra Bedonia e Langa lavora con la tecnica della lunga esposizione. Questo scatto è stato fatto in 3-4 ore, mentre noi stavamo facendo il picnic. Si è svolta ieri a Bedonia la serata inaugurale del torneo dei rigori, tradizionale competizione estiva a cui partecipano tre persone per squadra, un portiere e due battitori, a cui ci si sfida a chi segna più tiri dal discretto. Divisi in quattro gironi A, B, C e D, questa sera ci saranno le fasi conclusive. E per questa sera l'edizione del telegiornale si conclude qui. Non mancate di seguirci anche su Facebook, alla pagina di RTA Video Taro e sui nostri canali YouTube. Per guardare in diretta il telegiornale siamo ogni sera alle ore 19 sul canale 89 e in diretta streaming su Twitch. Vi ringrazio per averci seguito, qui è Lorenzo Rosselli e vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Grazie a tutti.